possibile qua c'è la panca raga là c'è l'elicottero e lì c'è il cane raga dovrebbe essere qua raga eccola qua allora questo video era un video breve raga iscrivetevi al canale e lasciate un like per novità per vedere subito novità e detto ciò raga non mi resta che salutarvi bella da francesco